Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa arriva nel Vallo di Diano per presentare le ZEA, ossia zone economiche e ambientali nelle aree parco, progetto contenuto nella bozza del decreto legge per misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti climatici e la promozione dell'economia verde. Ad accogliere il Ministro questa mattina presso la nuova e funzionale sede della comunità montana Vallo di Diano a Padula, il Presidente Raffaele Accetta e il Presidente del Parco Tommaso Pellegrino, accanto a numerosi sindaci del territorio del Vallo di Diano e del Cilento. Il Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni sarà riconosciuto aria a ZEA, con vantaggi sia per i privati che per le imprese che vogliono investire in efficientamento energetico e nella valorizzazione e tutela ambientale. Il cosiddetto sviluppo ecosostenibile o ecocompatibile, però parliamo sempre di sviluppo. È uno sviluppo che deve avere un senso green, su questo noi ci siamo lanciati pienamente, siamo il primo paese in Europa, nell'Unione Europea che ha affrontato questo tema, abbiamo fatto la legge, abbiamo messo le risorse, i nostri player, i nostri attori principali sono i Presidenti dei parchi e i sindaci. Chiediamo a loro adesso di seguirci, cioè di iniziare con le progettazioni, tutte progettazioni green che noi finanziamo. I soldi li abbiamo, adesso è il momento, dal primo gennaio, di volare alto. Le ZEA, che prevedono incentivi per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, al momento sono previste solo per le aree parco e per i comuni, che almeno per il 45% del territorio fanno parte delle aree protette, ma potrebbero in futuro, come spiegato dal Ministro Costa, anche essere estese alle aree contigue. Noi stiamo lavorando in questo momento, la previsione è questa norma, è la prima norma che si fa a livello europeo, tant'è vero che l'Unione Europea ce l'ha chiesta, il Commissario per l'Ambiente, Virginius Sinchevicius, ce l'ha chiesta, me l'ha chiesta personalmente perché la vuole studiare per poterla proporre a livello europeo in altre nazioni, pure perché è piaciuta molto. Perché lo dico? Perché è una norma nuova, una norma di natura sperimentale, però finanziata, ci sono le risorse. Adesso vediamo come girano, come si dice tecnicamente. Se girano bene io voglio estenderle a tutti i territori che ovviamente sono legati ai parchi, comprese le aree contigue. Adesso abbiamo stabilito una percentuale del 45% di presenza del territorio di ogni singolo comune all'interno del parco perché sono in questo momento in una fase sperimentale queste norme. Però intanto esistono, intanto iniziano a girare, intanto portano dei benefici economici, portano dei benefici di lavoro e di tutela dell'ambiente. Non era mai stato fatto prima, ma poi con una concentrazione di risorse su centri, tutto sommato, piccolini. Quando parliamo che ci sono, già l'anno scorso ci ho messo 100 milioni di euro, quest'anno ce ne mettiamo oltre 100, più questi 20 su base anno. Quindi stiamo parlando ormai di cifre che prima arrivavano sul territorio del genere 3-4 milioni di euro, adesso arrivano 3-4 volte tante quella cifra. Sono cifre per ogni comune molto significative, dove chi vuole fare la sana politica, la buona politica la può fare. Chi non la vuole fare esce subito, si capisce subito che non è all'altezza.